Tra le innumerevoli e molleste zanzare è giunto a conclusione anche la venticinquesima edizione dello storico palio dei Rioni del Vandorno. Dopo due anni di digiuno per via del Covid, i quattro cantoni, Calaria, Bonino, Gallo e Chiesa, si sono di nuovo sfidati in una due giorni fra giochi di gruppo, quiz, coreografie e tanto altro. È sicuramente l'evento più sentito dai vandornesi con grande varietà anagrafica e la preparazione per le sfide inizia addirittura mesi prima. Tema della manifestazione erano le arti e a partire proprio da questo tema ogni cantone ha dovuto inventarsi con gran creatività una mascotta rappresentativa e dalla sera sono stati proiettati dei piccoli cortometraggi realizzati dai ragazzi dei cantoni. Per l'occasione il circolo del Vandorno vicino ai campi sportivi si è animato a festa con tanto di stand di street food. Se un drone fosse volato sopra il Vandorno in questi giorni non avrebbe trovato una sola persona senza la maglietta del proprio cantone, un mosaico brulicante giallo, rosso, verde e blu. Anche se la rivalità fra i cantoni è sempre alle stelle per alcuni momenti è stata messa da parte. In fondo cosa è più bello di trovarsi con i propri amici per un evento del genere? Pazienza se accearmo i rivali. Al momento della classifica generale e della proclamazione del vincitore però l'appartenenza al cantone è ritornata più forte che mai, una lotta all'ultimo sangue, pardon all'ultima sfida. E così l'eleganza da notte degli Oscar è stata gentilmente messa da parte quando il nome del canton bonino era risuonato vincitore. C'era chi ballava, chi piangeva di gioia e chi si abbracciava in barba al coronavirus. Ed infine tutti sono potuti tornare a casa esausti ma felici con un buon boccale di birra e la gioia liberatoria di essere tornati a divertirsi nel nome delle tradizioni locali, tutti felicemente insieme. È un'emozione incredibile per me che ci sono dal Vandorno da una vita, che l'abbiamo vissuti da bambini, però ragazzi è un gruppo eccezionale, loro sono loro, sono loro, dal Davide, dal Davide, il nostro ex capitano, il Massimo, tutti raga, tutti, tutti. Il Paglio è una festa incredibile per il Vandorno, non deve morire mai.